Offriamo con piacere questo nostro riconoscimento, il premio Amor Loci, allo staff e al sito web Salento Alcolori perché sono i nuovi pulissimi del talento e con infinite collaborazioni in programma diventeranno i nuovi pulissimi del Mediterraneo. Come la Sirena, il curatore Alessandro Romano e i suoi collaboratori hanno creato un sito scrigno che funge dal strumento di formazione e di divulgazione capace di far cadere nella rete tutti i navigatori di interno. Grazie.